Bella per voi regà qui al Cipolla bentornati sul mio canale con un nuovo episodio di GTA 5 Finalmente regà ogni volta è inutile che vi sto a spiegare il perché esce così tardi l'episodio di GTA 5 Perché passa così tanto tempo Adesso più o meno sto viaggiando nell'ordine di un episodio a settimana Questo ovviamente perché alcuni di voi lo sanno Ma lo ripeto ogni volta io lavorando anche nel campo televisivo Con tutta la crisi di governo che sta succedendo Praticamente lavoro un giorno si e l'altro pure Detto questo però non ci soffermiamo su queste cose Continuiamo la storia di GTA che noi lo dobbiamo finire Allora con Franklin dovevamo raggiungere sto cazzo di posto Minchia no minchia regà sta lontanissimo che palle Sono 9 chilometri con la macchina da raggiungere Questo si traduce in 7-8 minuti di viaggio Sostanzi proprio reali 7-8 minuti reali di viaggio Quindi niente siccome non ho nient'altro da dirvi Se non che non voglio abbandonare assolutamente per nessuna ragione al mondo questa serie Che taglio il video e ci ribecchiamo direttamente appena sono arrivato no regà Eh che ne pensate di questa cosa Dai taglio il video e ci ribecchiamo tra mezzo seconda Eccoci arrivati regà chiaramente con un'altra macchina Inseguiamo i cervi Inseguiamo i cervi Madonna Abbiamo fatto una strage della fauna locale Allora dove cazzo No minchia Dobbiamo andare lì sotto Non ci voglio credere Senti io mi butto direttamente in mare Posso? Tanto che cado in acqua non prendo danno giusto? Devo soltanto prendere una bella rincorsa E farmi un bel tuffetto Ah e siete pronti? Sì signoro capitano Dai fate sto bel tuffetto Così non prendiamo danno da caduuuuta Beh poteva andare peggio Sinceramente mi ritengo molto più che soddisfatto Cazzo fai Franklin Ma dai stupido Dai riemergia dagli abissi Dalle profondità del mare Dell'oceano anzi Perché questo immagino sia l'oceano E andiamo tipo qua Di nuovo No che palle Di nuovo lei Di nuovo sta squilibrata mentale I was just making conversation Doing a three way A what? A triathlon Sounds like you got way too much time on your hand If you Stay at home cheerleader Di you? Pathetic You know what? If you, bitch I'll beat you Come on I promise Mi dissocio assolutamente No Dai ma che cazzo Poi devo bagnare pure gli abiti Ma io dico Per quale motivo io devo attraversare Mezza mappa di San Andreas Completamente senza motivo Per raggiungere una scogliera Isolata dal mondo E sfidare una donna a triathlon Che sotto la pioggia sta facendo le flessioni E i piegamenti Una squilibrata mentale che tra l'altro Abbiamo già sfidato in precedenza con Trevor E l'abbiamo già battuta Ma per quale motivo C'è anche l'opzione Di iniziare una roba del genere Cioè io non La batteremo anche stavolta L'abbiamo già fatto in passato Ti piace vincere facile Posci posci po 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 Una donna anche di una certa età What the fuck Sì 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 Tu continui a urlare lì dietro Io ti prendo le distanze Sia da un punto di vista sportivo Sia anche da un punto di vista sociale Perché non vorrei avere proprio niente A che fare una persona come te Tra l'altro stiamo facendo tutto questo Sotto la pioggia Io vi ricordo raga Stiamo a infrattà Come si dice a Roma Stavano a mezze fratte A mezzi cespugli E dai ma perché? Ma perché? Io mi sono fatto pure mezza mappa Cioè ho distrutto la mia automobile Quella bianca di Franklin No così ci riprende Ok ho distrutto l'automobile di Franklin Mi si era tutta sgangherata con la ruota L'ho dovuta cambiare Ho dovuto fare Ok era scriptato che dovesse passare quella macchina in quel modo What the fuck What? No bisogna saltare Non so se ho saltato il giusto correttamente Non so se ce la faremo Oddio ce l'abbiamo fa Oh mio dio si What the fuck Minchia Minchia quello è stato intenso Quello è stato intenso E lei ovviamente ce la fa come se nulla fosse Cioè certo No Mi sta recuperando nell'ultimo No 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 Shut the fuck up You're not gonna win I'm gonna win Devo essere io a vincere Per forza le cose Io so superiore Io so Franklin's E quindi Corri lungo la pista No Adesso devo pure correre Oh che palla il triathlon Si è vero perchè il triathlon è nuoto bici e corsa C'era anche su San Andreas Vi ricordate? Vi ricordate regà il famoso triathlon su San Andreas Tra l'altro il triathlon in single player Quello in modalità libera su GTA V Io l'ho fatto Cioè l'ho fatto tutto E L'ho vinto pure Quindi proprio no senso stiamo a fare sta cosa Sta missione secondaria Che se sapevo che c'era lei Vi giuro che non l'avrei mai iniziata Proprio me la sarei trascinata Fino all'ultima missione E poi non l'avrei fatta Guarda Non l'avrei nemmeno portata Si capisce che mi sta poco simpatica questa qua eh Talvez si vuole unire pure lei Al triathlon Stiamo facendo una cosa a tre Dai su abbiamo vinto Abbiamo preso un miliardo di chilometri di distanza Ecco Franklin è morto Però abbiamo vinto Bene No Voglio solo andarmene dalla tua presenza Abbiamo aggiunto il contatto Mary Ann Anche con Quindi adesso ci siamo fatti Trevor Franklin E pure Michael Michael all'inizio Ma io te posso sparare in culo No No perché Non spara quando miri a lei Oh my sweet Jesus Senti io ti voglio fregare la bici almeno Posso farlo almeno quello Se riesco a recuperarti No perché tu scappi come una codarda Chi è? Vedo dei puntini neri Noi vedo scusate Dei puntini rossi sulla Sulla minimap Chi è? Chi è che rompe il cozzo? Guarda che roba Nemico Va bene Andiamo a rompere il culo ai nemici A quanto pare Tra l'altro abbiamo appena finito Il triathlon Fantastico E È smesso di piovere Alve Lei sarebbe Una donna legata Incaprettata Buona cosa che Franklin Non è un pervertito Se no Avrebbe approfittato Della situazione Questa è esattamente Come non andrebbe Una discussione Nella vita reale Se un uomo Salvasse una donna In questo modo Cioè Però va bene Gamberi Sono dei mangi a spaghetti Come me Il suo nome Mi risuona un po' familiare Un po' italiano E' un po' italiano T'essere 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso la devo riportare su una casa vicino a Vespucci Beach. Vado ricordandomi bene o male? No. Vado ricordandomi male. Era una cosa molto simile, però la devo riportare in un altro posto, su questa autostrada, pensate, in passato. Comunque dubito altamente che una persona due minuti fa stava per morire abbia tutte le energie cerebrali per avere una capacità colloquiale così spicchettosa, così tutta attezzosa. Diciamolo così, diciamolo sotto questo profilo, forse fa capire meglio quello che voglio dire. Però vabbè, della serie che in America sono dei campioni in questo, cioè nel dire cose anche fuori luogo in situazioni molto molto estreme. Cioè battutine proprio esattamente tipo Spider-Man, regà, della serie che due minuti fa stava per morire. Magari anche mentre sta per morire non si risparmia la battutina del merdo. Ovviamente non lo Spider-Man con Tobey Maguire. Quello è intoccabile. Però lo Spider-Man proprio da fumetto, se no i nuovissimi, cioè i film più recenti di Spider-Man. Anyway, io sto sprecando tempo perché questo non è nemmeno una missione secondaria come Mary Ann, quella che abbiamo fatto prima, ma è proprio un incontro casuale, cioè della serie che sto completamente scaraventando nel fosso minuti preziosi per quanto riguarda questo episodio di GTA V. Però a quanto pare è proprio lì davanti, appena finisce il triathlon doveva succedere questa cosa. Immagino sia una cosa ovviamente scriptata. Però, dai, taglio il video, porto a casa questa qui, a meno che non ci sia un altro dialogo e taglio direttamente quando abbiamo finito la missione, l'incontro casuale, dai. Eccoci, siamo arrivati. Ah no, non ti devo riportare a casa, ti devo riportare a un'altra macchina praticamente. Gli sordi mi dai. Gli sordi non mi dai però, eh. Mortasci tu, sei più locorroica di Giuseppe Conte. Abbiamo salvato la vita però, manco mezzo centesimo, mezzo penni. Vabbè dai, quando si salva la vita a qualcuno lo si fa per una questione morale, no? Per una questione economica, questo ricordiamocelo sempre. Però almeno all'interno di un videogioco, cazzo. Due spiccetti non mi avrebbe fatto dispiacere vederli, ecco. Mettiamola così. Allora, vedo un'altra di punto interrogativo sulla minimappa da fare con Franklin. Che sarebbe questo. All'aeroporto, DOM, punto interrogativo. Ecco, rechiamoci, facciamoci un'altra volta metà mappa di San Andreas per arrivare al punto in cui bisogna fare la missione. E ci ribecchiamo direttamente lì, taglio il video. Però mi piace questa macchinuccia perché, eh sì, tanto voi ci avete i sordi, no? Ecco, facciamo a cambio. State buoni. Grazie, gentilissimi. WTF, mi sta arrivando una chiamata. Pronto? Ok, sì, mi ricordavo che poi venissero accreditati dei soldi, ecco perché ho detto quella cosa prima. Mi sono stati accreditati 60.000 sacchi. Non so se era una cosa che avevo fatto e poi non avevo salvato e quindi me l'ha riproposta il gioco. O se è un evento casuale che capita, non lo so, ogni tanto, sempre con la stessa tizia che però si trova in luoghi diversi. Sinceramente, I don't fucking know, non lo so. Però a quanto pare siamo arrivati, regà, mi sa che dobbiamo andare di sotto. No, non ti addobbare male. Oh mio Dio. Oh, di nuovo questo col paracadono. Rappresenta pieno, bro, il mettere le mani. mani avanti che adesso stiamo... La Rockstar Games nel 2013 ci scherzava su sta roba. Adesso la gente parla veramente così, no? Siamo diventati la barzelletta del passato nell'epoca recente. Della serie che veramente... Ah, ma io c'ho lo slow motion con Franklin perché mi devo stare a... Wow. Si è leggermente sfanculato il... Come si chiama la... L'alettone dietro dell'aereo. Ma perché devi soffocare quello che sto dicendo? No. Non posso parlare. Niente, questo coglione deve ogni volta soffocare quello che... Che devo dire nel mio commentary per sparare stronzate. Ma perché sul quad? Per quale motivo? Ma perché? Cioè, che figata è però perché? Mio Dio, ti stai zitto. Che figata, raga. Però nella vita reale non girerebbe così qua. Cioè, non è che si fermerebbe da nulla. Wow. Ok, dobbiamo atterrare... No, dobbiamo atterrare in un punto specifico, sì. La. Vai. Apri. Scendi bello veloce. Ma che cazzo sta dicendo? Io... Io devo dare spazio acustico a uno scemo del genere nel mio video e mi devo stare zitto? No, adesso ti so... Ti soffoco io la voce con... Dato una panciata, però ho preso il centro del... Sì, 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 tutte le stronzate che dici. C'ho tutto uno sgaro in fronte, Frank. Cioè, ma che cosa ti costruisci per seconda? È relative, bro. Quanto tempo mi costruisci per ottenere la bianca? Scusa, tu vai fuori a camminare tra i droni. Io sarò sull'interno della banca di Banca di Banca di Banca con le persone più alti. Si nota che sono parecchio irrascibile quando mi viene sottratta la parola durante un video gameplay da uno scemo che dice stronzate, vero? Adesso pure a te ti sparo, brutto stronzo... No, niente, stesso identico problema di prima. Non gli posso sparare addosso perché si blocca lo sparo quando mi riverso di lui. Ci siamo ricambiati nuovamente di abito. Come vedete... Eh, sì, abbiamo un abito da paracadutista. Quindi io nemmeno mi ci spreco più a scegliere i vestiti carini e belli perché ogni missione se ne prendono uno nuovo, come dico sempre. Sì, GTA Online non mi interessa. E dobbiamo passare a Micaele. Dove stai, Micaele? Ecco te qua. Siccome ci rimane un bel po' di tempo per... Prima che finisca l'episodio andiamo dal nostro carissimo... Eccolo qui che sta dentro la sua macchinozza. What? Ah, ok, la figlia, sì. Ma, 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 ma perché? Ma per quale motivo? Ma perché? Ma che clacson è? Ma gliel'avevo messo io, non mi ricordo. Wow, 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 wow. Tra l'altro, questi player così... La Roxar ha fatto una furbata veramente grossa perché... Questi personaggi così, se si allontanano un pochettino... E tu, tipo, ti giri da un'altra parte e poi ti rigiri di nuovo... Diventano degli NPC regolari. Cioè, si sarebbe trasformata, tipo, in un personaggio come questo. E niente, la Roxar, ovviamente, in queste cose si ingegna veramente... In maniere molto particolari e alcune volte anche creative. E noi tutti quanti li vogliamo bene e un po' meno bene. Per questo motivo dipende dalle circostanze e dalle situazioni che crea. Anyway, la smetto di sfascio là e andiamo o da Solomon o a fare il colpo. L'irruzione vera e propria. Io direi, regà, ma famo l'irruzione. Fino adesso abbiamo fatto stronzatine, missioni quisquiglie, proprio missioncine del cazzo. Adesso andiamo verso la sostanza. Andiamo a far colpo, dai. Evitiamo di metterci sul groppone qualche stellina della polizia. A polizia. E andiamo verso l'H. Taglio il video. Ma che cazzo fai? Ma non lo sai che non ci puoi andare con un piaggino sull'autostrada? Illegale. Ma penso sia illegale pure negli Stati Uniti d'America, regà. E' come andare a Roma sul raccordo col cinquantino. Ma che cazzo fai? Vai più veloce letteralmente se corri a gambe. Vabbè, ovviamente GTA ha tutte le sue regolucce del caso. Allora, facciamo una piccola manovra a zero proprio. Facciamo sto curvone. Mi chiami sta a girare la testa per quante curve sto a fare nel gioco. Vai di qua. Siamo arrivati. E facciamo partire il heist. Il colpo. E' chi ci bangete. Vestiti ovviamente molto casual. Dovremmo spazzare il pavimento. Questa è una cosa che mi ricordo molto molto bene. Dovremmo lavare il pavimento. Bella chicco. Non è che ci sia molta differenza tra gli abiti che ho adesso e quelli che mi devo mettere. Ma che fai? Non mi sembra un'idea molto intelligente lasciare le tanniche stesse con cui hai sparso il liquido incendiario dentro la casa perché si capirebbe. Vabbè, raggiungi la sede della FIBS. Trevor non ci serve. Riesaliamo in macchinuccia. Eh sì, raga, praticamente stavamo vestiti quasi come prima. Ma minchia, Michael, ti vesti come un inserviente delle pulizie per andare in giro. Ma questa è una cosa gravissima. Dai, la smetto di plagiare il Cerbero Podcast. Sentiamo il cazzo che c'ha da dire Franklin. No, dobbiamo andare sopra. Eh zio, dai, non mi mettere più ansia di quanto io non ne abbia già. Intendo da un punto di vista di Michael perché io, cioè io cipolla non ho ansia, anzi. Non vedevo l'ora di fare questo colpo. Vai. Entra. Bang. Oh, what the fuck? Chi cazzo è che sta a parlare? Salve. C'ha pure la rispostina pronta, Michael. Però non c'ha tutti i torti su quello che ha detto. Cioè, quantomeno per la situazione lavorativa italiana è così. Poi se anche in America è simile in questo momento, in questo preciso momento storico, no, ne ho idea. Immagino che per il Covid la situazione sia un po' uguale in tutto il mondo. Prendi il mocio. Il mocio che fa rima con... Incrocio. Che cazzo hai pensato pure te? Dai, su. Mamma mia. Sempre a pensare male. Allora, raggiungi il pavimento. Vai, apri. Seriously? I got a mop. Mi ricordo che disse proprio questo, Michael, nell'episodio scorso. Ah, devo proprio veramente con il mocio. Vai, strizzalo con tutto l'effetto dell'acqua strano. What the fuck? Ah, così lo sciacqui. Vai. Ah, fantastico, regà. Stupendo. Stupendo. Vai, volesci, volesci, volesci. Stupendo. Ah, risciacqua. Non si può? Sì, si può, ovviamente. Dobbiamo farlo veramente. Ricordiamoci che dobbiamo farlo... Vabbè, voi lo sapete meglio di me. Ma lo dobbiamo fare veramente proprio per dare l'impressione alle telecamere di sicurezza che stiamo facendo il nostro lavoro. Poi, ovviamente, dobbiamo sbangete e impiantare la bombuccia. Ciao, l'hanno vista delle telecamere? Che cazzo se ne frega? Tanto fra un po' fanno sarta tutto in aria, comprese le videocamere stesse. Peli che volano. Talve lei sarebbe... Che cazzo sta a fare questa? Ah, mi pensavo stesse... Tipo guardando una macchinetta del caffè. Ok, come si posava il secco? Vai. Minchia, che bello l'inserviente negli uffici dell'FIB. Vai, vogliamo bene che queste cazzo di bandiere americane devono splendere. Ok, vai. Qua... Ma possiamo avvicinarci il secchio, noi volendo? Ogni volta poi parte una cazzina. Sì, che possiamo. Ah, vedi quanti avanti GTA V, regà. Si possono raccogliere i secchi con l'acqua. Vai, metti giù. Non c'è bisogno, l'ho già fatto prima. Addirittura quando fischia si vede sulla minimappa che fai tanto rumore e quindi si allarga il cerchio del rumore che stai facendo. Stupendo. Veramente stupendo. Questo gioco sta troppo avanti, regà. Noi siamo troppo retrogradi per capirlo. Vai, mazza quante macchie fate. Cazzo vi tirate dosso le tazze di caffè? Le tazzine di caffè invece di lavorare negli uffici. Guarda che roba ti è. Vai. Polisci bene. Bene. Divertente, no? Dai, faride. Questa è l'ultima. No, merda. Ce ne sta un'altra qua. Vai. Piazziamo la bomba nella toilette che sta qua. Metto solo una bomba. Mica che ti devo guardare il pisello, santo cielo. Mi faccia vedere il pisello. Signor Peppi, venga qui. Mi faccia vedere il pisello. Orso dunque, il pene, il membro. Riprendiamoci il secchio. Sunset Bleach. Sicuramente sarà una frecciatina contro qualcosa che sinceramente non ho colto. Perché, vabbè, ok che conosco molto bene la cultura americana. Entrambi. Cazzo sta a dire. Dicevo, nell'eventualità che Sunset Bleach, Gigantic Service, quello che cazzo ci sta scritto, fosse una frecciatina, non ho idea. A chi possa essere riferita, perché appunto, ok che sono dentro la cultura americana, perché virtualmente vivo là, se vuoi dire. Ma, eh, non fisicamente, qui. Lascia l'edificio. Ah, è stato un piacere, guaglione. Ma adesso l'inserviente che c'era prima farà la spia, farà lo snitch. Perché praticamente... All right, bella per te. Farà lo snitch, perché sicuramente uno ti obbliga con la forza a smettere di fare il tuo lavoro, perché vuole farlo al posto tuo, e poi esplode il tuo posto di lavoro. Eh, non ci vuole, non bisogna essere Sherlock per collegare queste due cose. Sì, pronto? Hey, charge is set. I'm out of the building. Hey, dog, we're right around the corner. We got your gear in here with us. Shit's in motion, people. We're ready in the bureau. Y'all ready for this? In and out, homies. Let's do it. Excellent. Ah, ci parcheggiamo qui adesso. Vai. Ah, scusate. Ok, ci siamo. Quindi? Ah, eccoti. Con le tonine allegre lì che ci fanno il balletto. Il balletto stimolatorio. Usa il telefono. Dobbiamo chiamare. Cazzo dobbiamo chiamare. Non c'è il numero. Ah, detonazione. Eccolo. Me lo ricordo dalla primissimissimissima missione di GTA V. Mamma mia, regà, che macello. Oh my Jesus. Mi ricorda la roba delle torri gementi. Oh no, abbiamo fatto esplodere. Adesso arriviamo noi a salvare. Ci sono state delle esplosioni? Sì, qualcuno ha detto esplosioni. Minchia Lester, raga, però si dà parecchio da fare, eh. Si dà un sacco da fare quel poraccio di Lester. Adesso noi ci abbiamo Franklin, sì. Oh my sweet Jesus, tutto fuoco, no. Arriviamo noi, non vi preoccupate. Ci siamo noi. Che poi, stronzata madornale perché i pompieri, i vigili del fuoco non prendono mai l'ascensore, quindi... Però noi non siamo veri i vigili del fuoco, quindi ci sta. What the fuck? Ah, ok. Ok, sì, tanto non mi fa andare molto altrove, cioè si guida quasi da solo. È tutta una scenetta un po' scriptata. Fatte molto bene, però, le luci sul petto. E mi piace questa cosa, come si muovono, come illuminano l'illuminazione e tutto quanto. Devo dire che graficamente parlando, questa parte è molto avvincente. Peccato che anche nel gioco in modalità sandbox non si possano fare delle cose, delle cosucce così. Cioè, si possono mettere le torce sulle armi, mi sembra, ma non sono così fighe, non so perché. Vai, 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 vai. Siamo gli unici stronzi, ma qualcosa andrà sicuramente storto, secondo me, eh. Oh, inizieranno a sparare. Piazza gli esplosivi sulla porta. Oh, c'abbiamo pure l'ossigeno, minchia. Oh, dai. Ok, allora. Lo devo proprio fisicamente piazzare, non devo premere, ok. Adesso. Adesso. Non so come cazzo si faccia esplodere, quindi gli sparo. Fanculo. Cioè, tanto c'ho la pistola silenziata. Pia, pia, pia. Bene. Mio. Wow. Cazzo. What the... No. I can't proprio, non posso morire. No, non voglio. La traduzione è errata. Non posso per quale motivo? Perché sul tuo contratto di morte c'è scritto che non puoi. Vai, vai. Scappa. Date. Date a gambe. No, non mi dica che crolla. No. Hurry up. Vai. Perché ti sei fermato, Franklin? Vai, faccia pure, faccia pure. Wow. Il cazzo è crepato. Il tiratore. Eh, ovviamente. È crepato. Toccandogli il braccio è riuscito a capire che era schiattato. Vabbè. La devo smettere di fossilizzarmi su questi piccoli dettagliuzzi. Merda. Mi ricorda molto la scena di Max Payne. Verso la fine del gioco. Minchia. Tutto bruciato. Sarola. Addirittura l'effetto di sordimento nell'orecchio. Minchia, questo mi sta sordendo, perdono. What? No. Ecco, lo sapevo. Eh, sì, ovviamente loro si ficcano dentro una struttura tutta infiammata per ammazzare un pompiere che non è un pompiere e sanno che non è un pompiere. Dove? 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 Un cagato è il ca. Morite. Vai, fammi mettere... Vabbè, no. Vai, che ci sta finendo l'ossigeno. Cinquantesimo. Eh, ci manca ancora un bel pum, un bel... Ah, ok, no, no, no. Ci manca un bel... Una bella discesa da fare per quanto riguarda l'uscita, ma loro li abbiamo raggiunti. Stupendo. All'altro, come cazzo facevate a sapere che c'erano degli agenti diretti verso di me? Che per caso lavorate anche voi per l'FBI? Avete queste informazioni? Vabbè, la smetto, l'ho detto, la devo smettere di criticare queste cose così. Intanto stavo uscendo dall'inquadratura, chiedo bene. Dai, dai, scappa. Scappa, porco cazzo. Uh! Un tizzone infiammato gli si è posizionato sulla bombola dell'ossigeno. Che nella vita reale sarebbe molto greve. What the fuck? Ma, eh, quei cosi possono ammazzare anche, eh? Io non lo so, sto saltando ogni qualvolta che... Che mi vengono incontro, per sicurezza. Però non so se... Quello era vicinissimo, ma minchia, quello l'ho evitato proprio per culo. Carino quel minigioco, non mi è dispiaciuto. Molto, molto carino. Vai, 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 vai. Adesso stiamo praticamente quasi al piano terra. Se non proprio al piano terra. Ecco, quasi, ecco. Addirittura al di sotto del piano terra. Stiamo salendo per uscire fuori, quindi sì. Eccoci qua, vai. Ci avranno sgamato? Non c'erano nulla che possiamo fare in là. Il resto dell'OSFD sarà qui ancora. Lo Santos Fire Department. Aumento... Abilità della squadra aumentata. Gustavo più 25. Uno è schiattato. Chiaramente è schiattato quello più scherzo, credo. Sicuramente adesso ci inizieranno ad inseguire. Ecco, appunto. Quello che ho detto. Perciò che state a risupare a costruire il cuore il il sfordino. Come やco. Prova di essere. Perché se si li cerchiamo la linea, ma... Non lo saprei. Non lo uso. Mano, lavoro sono. E ogni minuto ci sanno. Beh, sei materiale di te. Asato, questi ragazzi del nostro obiettio tu li hai fatto. Se lo sa, chi è che lo sa, no? E' errore e vero? E' da' vero fredo, affredore? Bene finiti i dialoghi adesso stiamo al punto in cui c'era la nostra famosissima macchina mi ricordo la Rockford Hill Dobbiamo distruggere l'autopompa quindi prendiamo la nostra bella tanicuccia e iniziamo Eh zio ti dovresti spostare se non vuoi morire bruciato Sento rumori di gente impanicata probabilmente per le esplosioni molto probabilmente per le esplosioni dell'edificio dell'FIB L'America che si fa gli attentati da sola è stupenda regà Mi ricorda qualcosa? No ovviamente non mi ricorda nulla Allora evitiamo di dire queste cose Vai abbiamo messo abbastanza benzina intorno a sto coso? Entriamo qui dentro Eh ce la puoi fare Michael? Confido nel fatto che tu ce la possa fare Fai il giro eh si no 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 il giro in quel senso Fai il giro per di là stupendamente bravo Vai Bangate Et voilà Dovrebbe scoppiare dovrebbe se tutto va bene Manco Wugatz Io se so soltanto forate le ruote Madonna mia Niente l'unico modo è questo La polizia non si è accorta di nulla Vai Mi continuano ad apparire le cose di GTA Online E va bene Giusto Ma chi è? Ma chi è che ha parlato? Chi è questa voce? Giusto L'unico modo è morto in una ruota nel bureau E noi produciamo una foto? C'è qualche presa Madonna mia Spietato Madonna Produttore ancora più spietato di coso? Di Weinstein Raga Veramente Quello faceva i soldi Facendo cose poco carine nei confronti delle donne che recitavano nei film E questo invece Michael ancora più spietato sulla morte addirittura della gente Invece di dispiacersi per la sua morte Ah rubiamogli la sceneggiatura Dai che cazzo Ovviamente anch'io ci sono dentro no? Al giro Al giro La mia ambizione è quella di lavorare nel cinema un giorno Però nel senso Diciamo colgo molto bene quando vengono fatte Delle battute inerenti al mondo del China Ma Va bene Salve Donnini Allegri Salve Come va? Purtroppo C'ho la macchina già Piena Andiamo a casuccia di Lester Che se ne è stato rintanato per tutto questo tempo Che cazzo Sembra che si è pippato l'elio Raga Mortasci tu Uno è schiattato Ancora vestito con la cosa da paracadutista Franklin Lol Almeno non dubiteranno mai che siamo pompieri Almeno quello Vedrò le foto di una Di un profilo OnlyFans senza pagare Che cazzo Che cazzo Che cazzo Franklin con la canna in mano Quegli stupidi federali Ho sbloccato pure l'achievement Meglio di così se more Allora io direi Non ho sinceramente Se poi vi devo dire la sincerità Non ho fatto molto bene caso All'ultima parte relativa Al dialogo Dell'ultima cutscene Che abbiamo visto Va bene C'abbiamo un'altra missioncina Col bureau Perché abbiamo fatto chiaramente I casini con la Meriweather E all'FBI Non piace molto questa cosa Nemmeno alla parte marcia Dell'FBI Va bene Che è quella per cui abbiamo Lavorato adesso Detto questo Io direi Facciamoci l'ultimissima Missione da Soleman Solemon Solema Solemano Sulemani Sulemani Oppo No non mi ricordo come si chiama So Solomon Va bene Solomon Che era il produttore cinematografico Credo Mi sembra di si Forse Immagino Presupponendo Che sia appunto Una missione Abbastanza Corta E diciamo Non duri più di 10-15 minuti Così che abbia L'episodio Da Da una cinquantina di minuti Tagliando il tutto Ok Quindi da far rientrare il tutto Nel minor tempo possibile Solito posto Qui dentro Gli studi di Hollywood Entriamo qui dentro Mazzate Machinuccia Parcheggio nel posto dei disabili Come Andrea Scanzi Perché a noi non ce ne frega un cazzo Vai Richard Majestic Timelapse Diventa giorno Ciao quindi se il pluggio è pulito ora, gli investitori, quindi noi, ottenono un'immaginazione massiva. Inoltre, posso usare questo per ottenere la maggior partecipazione, il vecchio bambino, il figlio di son, accettare a cercare questo relico e lasciare radevolto l'area per condos. In questa economia, la città sarà lasciare mi costruire tax-free. Può anche ottenere un'immaginazione. È una cosa brillante, e è tutto grazie a te e a Molly's Eye per i dettagli dell'immaginazione. Eh, l'ho notato. Lol. Vero. Ehm, mi sento male per questo. Ma evoluzione è evoluzione. Poi, Molly. Namastè. Posso prendere il film, signor Richards? Il mio avvento è in 25 minuti. Non possiamo fare qualcosa? Ma mi finisci la foto, poi cerchere il posto. Ho spero che il nostro timetable non permette. Ciao, signor Richards. Dove sta andando con il film? Si prende l'unica copia, off-shore, qualcosa di buono e discreta. Analogico. Dio, ha sicuramente le complicate. Michael, puoi fare qualcosa? No, non può fare qualcosa, ragazzi. È una inevitabilità. Loll. Sapevo che Michael avrebbe reagito così. Vai, vai, vai. Raggiungila, raggiungila. Vai, vai, vai. Raggiungi l'aeroporto e cerca Molly. In due... In nemmeno un minuto ha già raggiunto l'aeroporto. Che cazzo è, regà? Manco Clark Kent su Smallville. Va così veloce. Vai, 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 vai. Non possiamo usare lo slow motion in macchina perché utilizziamo Michael. Ricordiamocelo. Non stiamo con Franklin. Sei pronto? No, 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 no. Wow! Sei l'uomo più sculato del mondo, te, con la maglietta nera. No. Mi dispiace, troppo tardi. Ma che cazzo? Ma non sta proprio all'aeroporto? Ecco. Stavo... Stavo vedendo che era una strada diversa, diciamo. Ah, noi andiamo contro mano perché... Who the fuck cares? Come dicono gli americani. Chi cazzo se ne frega. Mi segui Molly. Eccola lì. Devo andare per di qua e poi per di qua. Ma sta dentro un cazzo di campi. No! No! No, sta scomparendo, sta scomparendo, sta scomparendo. Sì, non fallire la missione. Credo che siano leggermente troppi. Quindi che devo fare? Devo ammazzare tutti? Devo fare scriopare tutto qua? Che devo fare? Prepa. Devi morire male. Mamma mao. Tu cazzo vai veloce, madonna. Wow! No! Minchia! E' stato respinto dal motore di un jet quella cazzo di volante. What the fuck? Stanno spegnendo il motore di un jet in fiamme. Non so perché, non so per come. What? 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 Wow! No! Mortacci per un millimetro. Che cazzo di figata questo inseguimento, sarò onesto. Però non capisco che cosa vuole fare. Cioè sta girando in cerchio senza motivo. Oh my god, la vedo bruttissima. Ecco. Ah, stanno inseguendo anche lei. Quindi. Non l'avevo capita questa cosa. Pensavo la stessero scortando, vi giuro. Dai. No. Ma gli devo sparare. Che devo fare? Lol. Oh my god. Eww. 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 Ohhhhh. Il peccato. Era pure una bella... Lei è stata risucchiata invece la pizza del film è completamente intatta. Semina gli sbirri, va bene. Eww. No. Sì, ma lei non esiste più perché è stata completamente triturata male. Che cazzo che c'era scritto? Ah no, niente. Una bibita, una bevanda. Se fosse qualcosa di più interattivo, di più entusiasmante. Yep. Adios. Stato un piacere. No No, 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 gentilmente Non rompete, gentilmente, eh Lo chiedo proprio, guarda, con tutta la gentilezza Del pianeta, ecco, come seppure Rotta una ruota, brutti, emeriti Bastardi, no, no, l'elicottero No, dai, sono il produttore di un film Cazzo, dovrei essere, ecco Dovrei essere esente dalla legge, no Non esiste la legge per i produttori di film Giusto, funziona così, vero, nel mondo del cinema No, vai qui sotto, riparati Sotto il ponte, così l'elicottero non ti può Vedere, sì, il sospetto è dentro una macchina Devo dire, molto dettagliato con la tua Descrizione Per quanto riguarda il sospetto Vai, non so perché stranamente L'elicottero ha un cono di visuale molto, molto Ristretto, visto che durante le missioni Quando devi scappare dalla polizia come Ultimo incarico, tra virgolette, l'elicottero Della polizia ha un cono della visuale molto, molto Ristretto, chiaramente per facilitarti Un pochettino quella che è il completamento Della missione a discapito Del realismo Oh, arriva una volante dall'altra parte Ma sì, sì, io mi infilo qui sotto E aspetto Dai, su, tre stelline Ci vuole un po' Oh, stupendo Adesso, missione completata Rogne legali Adesso dovremmo ammazzare anche a David David, si chiama David, quello lì Dovremmo farlo fuori pure a lui, no? Ho, 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 ho Ho, 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 ho In effetto Oh, ho, 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 ho Abbiamo fatto tutto Tutto quel coso per niente Perché ce l'avevano già salvata Oh, my sweet Jesus Va bene Ok, allora Detto questo ragazzi Io vi ringrazio per aver guardato anche questo episodio GTA Sappiate che appena posso farò un altro episodio Ripeto, ho intenzione di finirla questa serie al più presto Rikki, che vuoi? Ok, sto investendo pedoni a cazzo di cane Mi mancava il motore fisico e euforia di GTA Giusto per quello Non perché sono un satico bastardo Forse anche quello un pochino Però, non vi rubo ulteriore tempo inutile Vi ringrazio ancora una volta per aver guardato questo episodio Ragazzi, suoli Come stavo dicendo prima Ho intenzione di continuarla e finirla questa serie Vi ricordo che l'iscrizione è sempre ben ascettata Noi se beccamo o in live sul sito Fiola Letteralmente questa macchina della polizia Ha cercato di riprodursi con la mia mini Non sto nemmeno scherzando È la prima volta che vedo una roba del genere In un inseguimento di polizia su GTA Vi ricordo che l'iscrizione al canale è sempre ben ascettata E noi se beccamo, raga Nel prossimo episodio di GTA V Bella pe voi Ciao 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 Ciao